Si avvicina anche quest'anno la ricorrenza della commemorazione dei defunti in tutti i cimiteri della provincia di Ragusa, anche a Modico ovviamente, dove però Vito D'Antona, sinistra italiana, denuncia ancora una volta l'inagibilità di alcune parti del cimitero cittadino a causa delle precarie condizioni di alcune edicole funerarie. E questo, ed è il vero problema, accade già, spiega D'Antona, da ben nove anni. Anche quest'anno, in occasione della commemorazione dei defunti, a molti cittadini sarà impossibile, spiega D'Antona, avvicinarsi alle tombe dei propri cari, in quanto da nove anni alcune parti del cimitero di Modica risultano inagibili e transennate a causa delle precarie condizioni di stabilità di alcune edicole funerarie, spiega l'esponente di sinistra italiana. Come è noto, gli edifici interessati risultano di proprietà di confraternite e circoli privati, quali in tutti questi anni non hanno provveduto ad effettuare le necessarie manutenzioni delle edicole, confraternite e circoli che in alcuni casi non risultano più operanti. La complessa situazione dovuta alla proprietà dei loculi, ma anche la possibilità che, in assenza di interventi del privato, il Comune possa intervenire per eliminare il pericolo rivalendosi sui proprietari, è stata diverse volte oggetto di discussione, in qualche incontro, ma senza ad oggi alcun esito. Nel frattempo, prosegue D'Antona, la mancanza in tutti questi anni di interventi di consolidamento e di manutenzione rende sempre più grave lo stato di degrado degli edifici, determina un evidente pericolo per l'incolumità pubblica e per quanti transitano nelle vicinanze degli edifici transennati. Riteniamo che non ci sia più tempo da perdere e che bisogna ripristinare la piena fruibilità del cimitero. Proponiamo che l'amministrazione istituisca urgentemente un tavolo tecnico, conclude l'esponente di sinistra italiana, per l'approfondimento del complesso problema, si individui una via d'uscita e si avvino le prime opportune azioni.